Sarà una Pasqua amara per i dipendenti Cantarelli, la fabbrica si ferma dal prossimo 10 aprile e nel futuro per ora c'è l'incertezza. Il personale andrà tutto in cassa integrazione, la produzione nello stabilimento di Toronto la rimarrà bloccata fino al 26 di aprile. Tutto sembra essere congelato, la procedura di amministrazione straordinaria doveva servire all'accessione e al rilancio dell'attività è in crisi ma per ora è tutto fermo. C'è molta preoccupazione tra i dipendenti, circa 250 tra le province di Arezzo e Perugia. Lo stop coincide con il fermo stagionale ma in fabbrica serpeggia la consapevolezza che tutto potrebbe davvero precipitare. Il ministero batta un colpo, si spera, anche perché l'asta bandita dal commissario Leonardo Romagnoli è andata deserta. Tra i nomi che restano interessati all'affare rimane Emiliano Rinaldi assieme alla Sartoria Toscana. C'era stata anche una visita di ricciarini tessile nello stabilimento di Terontola ma per il momento l'orizzonte rimane oscuro.